Messaggio per tutte le donne single in ascolto. Shopping, sleep, trombamici, aperitivi, uomini, appuntamenti, amiche del cuore, mogli frustrate, mariti infedeli. Lisa Rosso, single ma non sola. Dalla penna della biondissima blogger Veneta, il libro più chiacchierato del momento. Tutti i segreti delle donne in single ma non sola, di Lisa Rosso. Cercalo in tutte le edicole e librerie nel sito www.enjoyedizioni.it